Buongiorno, che la democrazia rappresentativa sia in crisi purtroppo è un dato di fatto, è un tema di cui si sta discutendo molto in questo periodo e quindi è inutile insistere su questo, piuttosto vediamo se ci sono delle risposte possibili. Ce ne sono almeno un paio, una pessima è il populismo, la democrazia è il ricorso a un capo che fa appello a un popolo indifferenziato chiedendo una delega in bianco, l'abbiamo già visto succedere in Italia purtroppo anche recentemente, c'è il rischio che la crisi possa indurre a cercare questo tipo di soluzione di nuovo perché la crisi incarognisce, impoverisce, rende le persone egoiste, impaurite, quindi questo rischio indubbiamente c'è, un motivo in più per cui bisogna cercare di sviluppare la seconda risposta invece, che è appunto quella di cui stiamo parlando in questi giorni, che è la democrazia partecipativa e deliberativa. È una forma di democrazia, va detto con chiarezza, che non ambisce a sostituire la democrazia rappresentativa, ma semmai a rafforzarla, a migliorarla, a renderla meglio in grado di resistere alle spinte terribili che stanno arrivando e ancora più arriveranno nei prossimi mesi e anni. Nella democrazia rappresentativa, come sappiamo tutti, il rapporto dei cittadini con le istituzioni immediato, mediato dal voto, mediato dai partiti, ma la democrazia partecipativa e deliberativa ha un altro merito, oltre a quello di rendere il rapporto non mediato, ha un merito in sé, un valore in sé, consente di prendere decisioni migliori perché le persone partecipando portano informazioni, punti di vista, quindi certamente le decisioni dovrebbero, almeno si spera, essere migliori, ma al di là di questo c'è il dato di fatto che la democrazia partecipativa e deliberativa produce capitale sociale, migliora il senso di appartenenza, riduce la semplificazione della politica, in una parola la democrazia partecipativa e deliberativa è utile in sé, indipendentemente dal fatto che poi produca decisioni migliori o peggiori, anche se in genere le produce migliori. Ma poi c'è un altro punto che è forse il punto più importante, nella democrazia rappresentativa si suppone che si confrontino opinioni già formate, la gente va a votare, entra dentro una cabina, mette una croce e quell'opinione, si somma a tante altre opinioni e alla fine forma la maggioranza. È un modo di far partecipare le persone molto semplice, ma anche un po' rozzo perché in realtà il problema a monte è come si formano queste opinioni, spesso si formano sulla base di pregiudizi, di campagne elettorali dominate da pettegolezzi o da menzogne e quindi alla fine non si ha la certezza che le opinioni siano le opinioni, fra virgolette, giuste. Ecco, nella democrazia partecipativa e deliberativa succede esattamente il contrario, le persone si confrontano con la disponibilità a cambiare opinione, entrano nel processo di democrazia partecipativa e deliberativa con delle opinioni disponibili, se convinti, a cambiarle. Questo fatto in un paese come l'Italia, dove come si è visto spesso e si vede in televisione, le opinioni si confrontano urlando, insultandosi e annichilendosi a vicenda. Questo fatto in sé è importante e proprio per questo la libertà di opinione per la democrazia partecipativa e deliberativa è particolarmente importante perché se non c'è libertà di opinione non c'è la possibilità di confrontarsi civilmente. Naturalmente si pone un problema dal punto di vista giuridico. Le decisioni prese in ambito di democrazia partecipativa e deliberativa è quanto devono influire poi sui processi decisionali tradizionali? In altri termini è giusto che quello che si decide in un'assemblea debba poi essere fatto proprio per forza dalle istituzioni, per esempio alle istituzioni locali? Probabilmente no, nel senso che se si prendono decisioni che riguardano tutti ci vogliono delle garanzie. La democrazia partecipativa e deliberativa non è una forma di democrazia sostitutiva di quella rappresentativa, la integra. Quindi si possono trovare delle forme per non obbligare ma rendere cogenti le decisioni prese dalle assemblee partecipative e deliberative in modo che a questo punto per esempio un assessore prenda un impegno pubblico con i cittadini che partecipano a queste assemblee e prenda un impegno pubblico a tener conto di quanto deciso in questa assemblea e per esempio si può immaginare che se si discosta da questa decisione sul sito del comune debba motivare le ragioni per cui si è discostato, ma certamente non è possibile immaginare che la democrazia partecipativa e deliberativa possa sostituire quella rappresentativa perché è anche un problema di garanzie verso tutti quelli che invece non partecipano. Da ultimo c'è da dire una cosa per correttezza e la democrazia rappresentativa è semplice, l'abbiamo visto prima, si va a votare, è finita lì, si delega, non mi assumo più responsabilità. Nella democrazia partecipativa e deliberativa invece bisogna partecipare, bisogna uscire di casa, bisogna magari la sera dopo cena andare a un'assemblea, bisogna informarsi, insomma è una forma di democrazia esigente, esigente verso coloro che sono stati eletti perché presuppone che abbiano l'umiltà di ascoltare e di accettare che la delega, la legittimazione che hanno avuto non sia onnicomprensiva ma a singoli punti possa essere una delega che i cittadini si riprendono ed è soprattutto esigente verso i cittadini perché presuppone un impegno. Può essere che questo sia un problema in Italia oggi? Può darsi, si è visto che l'assessionismo sta crescendo, però si è anche visto una partecipazione al referendum dell'anno scorso assolutamente inaspettata, ci sono mille forum su internet, la gente quando può partecipa e d'altro canto appunto se non si danno alle persone degli spazi di partecipazione è evidente che continuerà tutto come adesso, quindi io direi soprattutto per quanto riguarda il volontariato e il volontariato nel mezzogiorno c'è anche una responsabilità del mondo del volontariato nell'incentivare e accrescere le occasioni di partecipazione, sapendo che il volontariato stesso dovrebbe però essere un esempio di partecipazione e di democrazia al proprio interno. Grazie e buon lavoro a tutte e tutti.